Il dramma nel pomeriggio in un'azienda di Agugliaro nel piazzale di un magazzino in Via Roma è stato trovato senza vita il contitolare dell'attività. Dalle prime informazioni pare che l'uomo Pierenzo Bisello, 59 anni, lozzo a destino, padova, contitolare della Bisello Movimento Terra SNC con sede a Lozzo, sposato e padre dei tre figli, sia stato trovato a terra esanime vicino ad un escavatore, sul posto un'ambulanza del 118, i carabinieri di Campiglia, dei verici inutili purtroppi sopporsi, tra le ipotesi al vaglio dei tecnici dell'ospital, quella che l'uomo abbia perso l'equilibrio mentre stava lavorando sul mezzo si procede per un infortunio sul lavoro.